comunicazione e informazione e vi presento in questa giornata tra l'altro che ha una ricorrenza molto speciale il 25 aprile vi presento una marketer molto molto conosciuta molto apprezzata e stimata per il suo lavoro sto parlando di Sara Iannone benvenuta Sara. Ciao Michela grazie grazie a voi per l'invito grazie a te ad Alessandro che ovviamente adesso non c'è facciamolo presente però sono felice insomma di essere qua con voi oggi. Mi fa piacere introdurti oggi soprattutto per far conoscere a chi ci sta seguendo la tua professione che cosa significa essere un internet marketer oggi? Allora essere un internet marketer significa tante cose significa essere sempre in movimento tra virgolette movimento virtuale sempre in cambiamento e sei sempre pronto alla sperimentazione infatti tante persone mi chiedono sempre no? Come faccio a portare il mio business nel mondo digitale nel in realtà non è come faccio a portare ma è come riesci tu ad entrare perché questa è un po' la differenza e di solito il digital marketer viene visto sempre come una figura anche un po' non so perché ma negativa no? Anche perché tante persone ne parlano male insomma purtroppo c'è di questo settore ce n'è un uso inappropriato però in realtà semplicemente vende prodotti e servizi sul web ecco in parole povere questo. Una curiosità ma tu come hai iniziato? Come è stato diciamo il tuo avvicinarti in questo settore in questo mondo? Allora io ho iniziato in realtà io prima facevo un altro lavoro lavoravo come cameriera poi mi sono avvicinata al mondo del digital marketing facendo un po' di ricerche all'inizio su come lavorare da casa e quant'altro poi una serie di combinazioni mettiamole così la mia voglia di cambiare lavoro e un po' il destino forse non lo so chiamiamolo così mi ha portato a conoscere determinate persone che lavoravano nel mondo digitale e fatturavano delle cifre importanti cifre che io pensavo fossero no non è possibile no guadagnare così tanto poi mi sono resa conto che era una realtà totalmente diversa dalla mia e ero incuriosita da quella realtà quindi piano piano mi sono avvicinata a questo mondo e ho iniziato ad informarmi e a studiare fino a quando ho avuto l'enorme piacere di lavorare in un mercato estero con dei marketer che mi hanno permesso di imparare moltissimo da loro ok quindi io facevo formazione loro non mi pagavano ovviamente però io li aiutavo a gestire tutte quelle cose che magari non volevano gestire e ho imparato tantissimo saluto salvatore che è qui con noi ciao salvatore è un saluto anche da parte mia a salvatore e invece la una curiosità il ruolo della donna oggi nella nostra società soprattutto in questo contesto come viene percepito allora viene percepito all'inizio male all'inizio male perché non è facile nel senso la donna sai non so perché ma il valore percepito di una donna è è inferiore rispetto a quello percepito di un uomo ok se il mio lavoro probabilmente lo avesse fatto non so mio marito ad esempio che anche lui è un digital marketer ma lavora un po più dietro le quinte probabilmente il valore percepito soprattutto agli inizi sarebbe stato maggiore mentre la donna deve combattere ogni giorno anche con commenti anche un po offensivi volgari viene prima all'aspetto poi la tua competenza ok quindi tu devi sempre fare di più creare di più mostrare di più essere sempre di più ok e e allora lì è sta lì è stato difficile a un certo punto del mio lavoro quasi pensato anche di mollare tutto cioè sono sincera nel senso tanti anni fa quando iniziato dopo un po avevo voglia di mollare perché non venivo eh percepita no come competente ma ero solo la ragazza che stava cercando di emergere e anche do laddove ad esempio mi è capitato in in un gruppo in particolare dove c'era il mio contributo molto più forte rispetto ad altri uomini per alcune collaborazioni venivano scelti uomini che erano molto meno competenti rispetto a me nel senso che magari avevano anche iniziato da poco no però io ero sempre quella messa un po più da parte perché ero una donna non ero non non eravamo neanche abituati a vedere delle donne a tutti gli effetti anche oggi non ci sono tantissime donne che lavorano nel mondo digitale no sono pochissimo infatti per questo ti chiedevo proprio questa specifica domanda perché so che non è facile no entrare ed è farsi conoscere in un settore così così vasto e anche molto se vogliamo dire principalmente eh maschile assolutamente sì è stata è una lotta continua allora calcola che è una lotta già quando sei comunque un uomo no perché ovviamente poi ci deve mettere eh sai la creazione di un business online non è una cosa semplice quindi è una lotta in più se sei donna sei totalmente eh ripeto viene prima il tuo aspetto e poi dopo quello che fai ciao Fabrizio e e quindi allora su questo io ho sempre dovuto lavorare tantissimo no eh ho dovuto sempre fare di più però fortunatamente il fatto che io non abbia mollato mi ha portato fino a qui oggi quindi quali sono quali sono gli strumenti che eh consideri più efficaci proprio per per lavorare nel marketing digitale allora ehm gli strumenti fondamentali ovviamente se parliamo di strumenti tecnici parliamo di di strumenti base nel senso abbiamo bisogno ovviamente di un hosting di un di un dominio dove andremo a lavorare con il nostro blog ok che è il nostro mezzo principale eh poi avremo bisogno di un autorisponditore per l'email marketing e un servizio di creazione delle pagine web come può essere list pages click funnel che ti permettono di creare anche dei funnel importanti per il tuo lavoro ok se parliamo quindi di strumenti poi ovviamente ci sono i mezzi come ripeto sempre il blog è il mezzo numero uno ok perché ti permette di essere indipendente ti permette di essere eh di non dipendere ad esempio se noi lavoriamo molto con facebook ok e facebook decide di buttarci fuori dal mercato noi perdiamo tutto il nostro lavoro mentre se abbiamo il nostro blog noi siamo ancora lì ok possiamo rialzarci e continuare ok e non è così raro che facebook ti butti fuori dal comunque dalla piattaforma eh a me hanno bloccato diciamo che il blog è una specie di ancora dove no uno può tenere tutto quello che ha costruito e non disperderlo e non vanificare magari il lavoro di tanto tempo assolutamente allora saluto cristina che non mi trovava sì cristina oggi sono siamo diciamo live su un'altra fan page quindi ecco perché magari alcuni fanno fatica vedi su facebook ad esempio si fa anche fatica a volte trovare le persone che sono live su altre pagine perché magari non si vede subito e allora poi dopo no alcuni mi dicono ma sarà io non ti ho visto oggi eppure io ero qui certo invece volevo farti una domanda il abbiamo diversi canali no di attraverso i social quindi facebook twitter linkedin il canale youtube pensi che sia utile essere presenti ovunque oppure avere una strategia di utilizzo allora una volta pensavo e forse era anche più utile essere eh presenti ovunque no c'era anche meno meno concorrenza quindi nel senso la tua presenza ovunque allargava anche un po il tuo brand ad oggi dato che comunque i social sono diventati anche più difficili da utilizzare le strategie devono essere affinate bene è meglio avere delle strategie di marketing impostate nella maniera corretta sui canali giusti ok per ti faccio un esempio poi non è che devi stare magari solo su facebook e instagram no magari fai dei video e anche su youtube però se tu sai che ad esempio su pinterest magari non ci lavori eh ci pubblichi una volta al mese è totalmente inutile fai anche una brutta figura quindi evitiamo magari di starci se linkedin non è curato bene e non è un profilo che appunto può portarti qualcosa è bene non starci ok quindi bisogna capire i canali giusti per il proprio lavoro anche perché non tutti vanno bene e la comunicazione non è uguale per tutti ok io lavoro ad esempio prevalentemente con facebook quindi con instagram è già di meno ok perché per il mio lavoro magari è meno intuitivo se possiamo definirlo così e lavoro di più magari con facebook con youtube e ad oggi ho iniziato quindi il podcast ok che è un nuovo canale che in realtà mi sta portando tantissimo forse ad oggi sono i migliori però ogni canale ha la sua strategia e quando si inizia un business bisogna capire da subito su quali canali e mezzi dirigersi per evitare di fare confusione dopo quindi anche una realtà settoriale in base a quello che vuoi proporre e vendere giusto? sì esatto assolutamente sì e tra l'altro so che hai avuto moltissimo successo con un libro che hai pubblicato con amazon il mio viaggio nel marketing digitale ce ne vuoi parlare brevemente? allora è stato un libro che mi ha dato un enorme soddisfazione siamo stati tra i best seller sono arrivata in prima posizione della categoria quindi è stato comunque un risultato pazzesco e l'ho pubblicato con amazon è stata un'autopubblicazione c'è stato un lavoro dietro immenso che tanti non vedono ed è un libro scritto proprio con il cuore ok? nel senso tanti mi hanno chiesto perché adesso e non prima no? perché non ci hai mai pensato prima non è che io non ci avessi mai pensato è che non era il momento giusto ok? oggi era il momento giusto quindi quando io ho pubblicato il mio libro ero pronta ho impiegato comunque diversi mesi per scriverlo per farlo poi ovviamente sistemare ho dovuto studiarmi amazon che è tutt'altro tranne che semplice per la pubblicazione comunque dei libri e permette un po' di capire alle persone la mia storia no? il mio viaggio perché poi ognuno di noi ha un viaggio nel senso un percorso esatto un percorso che se magari condiviso può migliorare un pochino nel senso non ti fa sentire solo no? a un certo punto dici ok allora forse non sono l'unico perché quando io ho iniziato non c'era tutto questo sapere che c'è oggi ok? nel senso se tu cerchi informazioni sul digital marketing ne trovi tantissime di informazioni prima non era così quindi se tu non sapevi cosa fare se tu non sapevi dove andare a chi rivolgerti eri da solo comunque sei sempre stato da solo ok? e invece secondo me con questo libro forse sono riuscita un po' a avvicinare le persone a me a far capire che io ho iniziato in quel modo se ce l'ho fatta io che non sapevo accedere un computer e credimi che è la realtà non sto scherzando quindi diciamo che qualsiasi persona potenzialmente potrebbe imparare a fare il tuo lavoro? allora credo qualsiasi persona no credo solo le persone più più determinate e più forti caratterialmente perché è un lavoro che a tutti gli effetti ti uccide cioè nel senso passatemi il termine non è un lavoro semplice nel senso quando tu inizi un progetto online devi essere pronto e consapevole che devi entrare nell'ottica dell'imprenditore e non tutti possono essere un imprenditore nel senso se io preferisco lavorare per qualcuno ma non perché magari non voglio è semplicemente magari io voglio avere lo stipendio sicuro perché non voglio sbattermi tutti i giorni a combattere con tutte quelle cose che ci sono da fare allora non posso farlo perché online non ti dà la sicurezza niente e nessuno non c'è garanzia di niente tu puoi lavorare anche dieci anni senza avere garanzia di successo e io ho lavorato così nel senso io per tre anni non ho guadagnato niente non avevo proprio non c'è nessuno che ti dice guarda che tu poi guadagnerai quindi dipende da te quindi può farlo chiunque no può farlo chi ha una grossa determinazione una grossa forza e soprattutto chi è molto costante perché sul web la parola costanza è la parola chiave quindi costanza e determinazione e anche ovviamente una parte tecnica che quella devi imparare ed è la parte anche a volte più difficile no? certo invece come sei riuscita a fidelizzare le persone diciamo a diventare la leader del settore per quanto riguarda quello che fai allora fidelizzare le persone credo che è una cosa che mi venga molto spontanea nel senso io non faccio non applico strategie di marketing per fidelizzare le persone io do semplicemente di più forse di quello che si aspettano ma perché è quello che io vorrei avere quindi ad esempio io ho lanciato un corso che si chiama Fido le persone lo hanno acquistato sono state contentissime del prodotto ma dopo un mese circa ho fatto dei nuovi tutorial alla prossima e